In studio Viviana Sammito. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento che autorizza la Regione a ripianare in 10 anni il disavanzo finanziario. Il disavanzo finanziario del 2018, anziché in tre anni, oltre alla norma Salva Sicilia fortemente voluta dal centro-destra, la vice-sindaca di Palermo, la deputata nazionale Carolina Varchi, ha annunciato che è stata istituita la struttura commissariale rappresentata dal sindaco con l'ausilio della protezione civile guidata dal ministro Musumeci, finalizzata la risoluzione del problema delle bare insepolte al cimitero dei Rotoli, per cui è previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro e poteri straordinari in deroga per semplificare e accelerare le procedure autorizzative. La norma Salva Sicilia consentirà finalmente di far decollare l'azione amministrativa di intervenire su tante emergenze, hanno commentato i due assessori della Lega, Turano e San Martino, e di lavorare a riforme necessarie per la Sicilia, una norma che si aggiunge a quella prevista nel decreto Aiuti Quater, che destina la regione 200 milioni. Il bilancio della regione Salvo, andiamo avanti, ha ingalzato il presidente Schifani con progetti di riforme e sviluppo. Abbiamo salvato il bilancio della Sicilia che rischiava di essere compromesso. Andiamo avanti con determinazione, nell'interesse dei siciliani. Abbiamo promesso e ci impegneremo a realizzare un progetto di riforme, sviluppo, crescita e lavoro. È sempre aperta la battaglia politica per privatizzare gli aeroporti siciliani, dopo la polemica per i pochi vettori a disposizione sulla Sicilia e il caro voli. È un fatto definito dal governatore inaccettabile e scandaloso. Continueremo la nostra battaglia sino in fondo, non faremo sconti a nessuno, così come lavoreremo per privatizzare gli aeroporti. Più vettori, più efficienza nell'interesse dei cittadini. Si parla di infrastrutture, continuiamo a farlo con il ponte sullo stretto, perché il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, è convinto. Entro due anni ci sarà la posa della prima pietra sul ponte dello stretto. Entro due anni ci sarà la posa della prima pietra del ponte sullo stretto di Messina e le regioni Calabria e Sicilia sono d'accordo. E quanto detto dal ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, in videoconferenza questa mattina al porto di Palermo, Salvini sta lavorando affinché l'importante infrastruttura possa essere realizzata. Lo ha detto in campagna elettorale e continua a sostenerlo. Chi dice no al ponte, chi dice no a tutto, conto di terminare il mio mandato con i lavori in stato di avanzamento, ha aggiunto ancora il ministro. Se servirà una legge speciale o è sufficiente il codice degli appalti, ci stiamo ragionando, ha risposto Salvini, e c'è un dibattito in corso. C'è chi dice modello Genova, c'è chi dice che sia sufficiente l'attuale normativa. A me interessa avere un progetto inattaccabile, ha concluso Salvini. Ieri sul ponte sullo stretto era intervenuto anche il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, che ha ringraziato il governo Meloni e Matteo Salvini, che si sono intestati questa iniziativa. Con il presidente della Calabria, Roberto Chiuto, faremo di tutto perché questa opera si possa realizzare. Ha detto ancora Schifani, che ieri è volato a Roma per un confronto con il governo, che sta dimostrando grande attenzione nei confronti della Sicilia, ha tenuto a sottolineare il governatore. Parliamo della manovra finanziaria che approda a Montecitorio. Allora vediamo in questo servizio in generale cosa prevede, quali anche le ripercussioni positive per l'isola. È previsto per venerdì mattina il voto di fiducia sulla manovra finanziaria che approderà domani in aula a Montecitorio. Tra le misure principali previste, quella sul reddito di cittadinanza, sul POS, sul superbonus 110% e sui trasporti, in riferimento a quest'ultimo punto potrebbero arrivare più risorse per potenziare i collegamenti aerei di Sicilia e Sardegna. Attraverso un emendamento approvato in Commissione Bilancio alla Camera per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei con le due isole principali, viene istituito un fondo al MIT che avrà una dotazione di 5 milioni di euro nel 2023 e 15 milioni a partire dal 2024. Le disposizioni si applicano solo ai cittadini residenti in queste due regioni. La stessa Commissione, inoltre, ha approvato il cosiddetto emendamento Salva Sicilia che spalma in 10 anni, anziché in 3, il debito di 866 milioni di euro contestato alla regione dalla Corte dei Conti. Così come stabilito dalla norma, la regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti in 10 anni, a decorrere dall'esercizio 2023 il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda le altre misure al vaio del Governo sul fronte reddito di cittadinanza, c'è la perdita del beneficio se si rifiuta la prima offerta di lavoro. E dal 1 gennaio 2023 l'erogazione ai giovani tra i 18 e i 29 anni sarà condizionata dal completamento della scuola dell'obbligo. Restano le sanzioni per i commercianti che non accettano pagamenti con il post per acquisti inferiori a 60 euro, mentre il termine per usufruire del superbonus 110% è stato esteso al 31 dicembre 2022, previsto infine l'abbattimento dell'IVA per gli immobili green e il riscaldamento. Sono tornati in piazza a protestare contro le decisioni del Governo Meloni di revocare il reddito di cittadinanza. Manifestazione di protesta a Palermo. Vediamo questo servizio. Scendono nuovamente in piazza a protestare i percettori del reddito di cittadinanza dopo la nuova stretta della manovra del Governo Meloni. I disoccupati tra i 18 e i 59 anni che possono lavorare e non hanno a carico minori, disabili o anziani perderanno il sussidio nel 2023, dopo sette mesi. Il corteo questa mattina è partito dal castello della Zisa a Palermo per raggiungere il palazzo della Regione. Alla guida dei manifestanti c'erano Davide Grasso, Toni Guarino e Giuseppe Delisi. È inconcepibile che uno Stato civile come quell'italiano possa togliere l'unica forma di sostentamento che hanno i poveri, calpestando la dignità sociale in questo modo dei cittadini più deboli. I manifestanti hanno anche alcune soluzioni, lo ha spiegato Davide Grasso. Potenziare i centri per l'impiego, facendo in modo che tutte le offerte di lavoro passino da lì, in modo da garantire la massima trasparenza e la regolarità dei contratti. Attuare un cambio generazionale dei lavoratori forestali, alcuni dei quali hanno anche 60-65 anni, assumendo i percettori del reddito di cittadinanza di un'età più giovane. I percettori del reddito di cittadinanza erano già scesi in piazza lo scorso novembre e promettono di continuare a manifestare affinché il governo Meloni non farà un passo indietro. Oggi mi dispiace che siamo in pochi perché giustamente siamo 260.000 percettori a Palermo, però non è sceso nessuno e questo mi rammarica profondamente, veramente. Il reddito di cittadinanza ci permette di dire no allo sfruttamento perché qua al sud le persone sfruttano, gli imprenditori sfruttano, come fate voi imprenditori. E questo è i nostri giovani perché lo stiamo anche per i nostri giovani, non lo dobbiamo permettere. La Meloni sta facendo una provocazione per metterci ancora una volta dalla parte del torto. Non si può togliere il reddito di cittadinanza in questo momento in cui c'è stato il 60-75% di aumento di tutti i prodotti di prima necessità. Parliamo adesso dei problemi legati alla sanità, con la carenza di personale medico, ma soprattutto anche con l'assenza di un direttore generale perché ancora la regione siciliana non ha ufficialmente nominato i vertici. Questo grido d'allarme arriva dai sindaci del territorio Ibleo. Facciamo il punto nel servizio. I sindaci Iblei uniti in una presa di posizione ferma e precisa sulle criticità dei presidi ospedalieri e sulla necessità di nominare i nuovi vertici dell'azienda sanitaria. Una situazione inaccettabile, scrivono, rivolgendo un appello alla regione, chiedendo con forza in una nota che si provveda quanto prima alla nomina. A descrivere la situazione è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. La situazione sanitaria nella provincia di Ragusa vive un momento di difficoltà, di grave difficoltà. I presidi ospedalieri soffrono per chiusura di reparti, per carenza di personale, per problemi nei pronti soccorso. Non solo, ma quello che chiediamo è che quando si adottano decisioni di questo tipo ci sia un coinvolgimento del territorio. La nomina dei nuovi vertici andrebbe concertata con il territorio, dice Cassì. Sappiamo che il commissario che era stato nominato è stato revocato, sappiamo che doveva essere sostituito, ma questo ancora non è successo. Noi abbiamo bisogno di stabilità, abbiamo bisogno di programmazione, abbiamo bisogno di organizzazione, abbiamo bisogno che il sistema sanitario riprenda a funzionare almeno i livelli precedenti al Covid. Una sanità caratterizzata dai ritardi degli interventi chirurgici per mancanza di personale. Non esiste che la città, il capoluogo di provincia, non abbia un reparto di pediatria. È una cosa veramente che non va bene. Sappiamo che c'è una carenza di personale, di anestesisti per esempio, ma bisogna che qualcuno ci dia una soluzione. Un ospedale, quello di Ragusa, che patisce anche criticità strutturali. Trovo veramente paradossale che noi abbiamo un ospedale nuovo e che presenta già delle criticità progettuali che è apparentemente insormontabile. Questa è veramente una cosa molto grave. Allora, cominciamo a discutere di queste cose, a trovare delle soluzioni. Tanti i problemi della sanità Iblea. L'assessore regionale alla sanità, Giovanna Volo, contattata da noi telefonicamente, ha precisato che la regione sta lavorando in tempi celeri alla nomina del commissario, carica che ricopre in questo momento ad interim il dottor Sirna, dichiarato l'assessore. A breve saranno espletate le procedure relative al bando per i nuovi direttori generali. L'albo nazionale è stato pubblicato pochi giorni fa. Queste le risposte fornite dalla regione, ma rimangono, con il punto interrogativo, i numerosi problemi che attanagliano la sanità Iblea. Inchino davanti alla casa del boss durante la processione, circa 80 anni di reclusione per 39 imputati. Il 25 marzo del 2016, durante la processione del venerdì santo a San Michele di Ganzeria, 39 persone permisero un inchino del fercolo davanti la casa del boss mafioso di Cosa Nostra, Francesco Larocca. Adesso sono arrivate le condanne, circa 80 anni per 39 imputati. I reati contestati sono turbamento di funzioni religiose, istigazioni a delinquere. A 30 imputati è contestata anche l'aggravante mafiosa, ritenuto o prescritto il reato di riunione pubblica non autorizzata. Tre imputati sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Ad emettere la sendenza il Tribunale di Caltagirone, che ha seguito il processo per tre deviazioni durante il percorso della processione. Infatti, secondo l'accusa sostenuta in aula dalla DDA di Catania, e basata su indagini e videogirati dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Ganzeria e della compagnia di Caltagirone, il fercolo del venerdì sarebbe stato costretto a cambiare il percorso previsto dalla processione, facendolo fermare davanti l'abitazione di Francesco Larocca, consentendo alla moglie, che attendeva la sosta, di rendere omaggio al simulacro del Cristo morto. Alcuni deportatori avrebbero atteso l'uscita di casa della donna e avrebbero inneggiato al capo clan Larocca. Il Tribunale di Caltagirone ha condannato a sei mesi di reclusione ciascuno dei dodici imputati, disponendo alla sospensione della pena. Ha combinato due anni e sette mesi di reclusione per altri undici imputati, due anni e nove mesi per otto e tre anni per altri otto. Il Tribunale ha disposto anche risarcimento spese al Comune di Santa Maria di Galzaria, che si era costituito parte civile nel procedimento. Sorpreso a spacciare nel quartiere Ballaro a Palermo, i finanziari hanno arrestato un uomo e sequestrato 18 dosi di crack, cocaina e hashish. I finanziari del Comando Provinciale di Palermo notano un uomo intento a spacciare al quartiere Ballaro. Intervengono e lo arrestano, sequestrando 18 dosi di crack, cocaina e hashish, una pistola e 93 cartucce. Queste ultime sono emerse dalla perquisizione dell'abitazione dell'uomo che i finanziari hanno deciso di effettuare vista la flagranza del reato. L'uomo si era opposto all'ingresso delle forze dell'ordine a casa ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco. Lo spacciatore, privo di porto d'armi, è stato tratto in arresto per detenzione illegale dell'arma e delle munizioni e per spaccio di sostanze stupefacenti. È stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha stabilito per lui la reclusione nel carcere Pagliarelli. Droga, armi e munizione sono stati sequestrati. La convivente dell'arrestato è stata denunciata. Sulla pistola verranno effettuati gli accertamenti utili a verificarne la provenienza ed eventuali precedenti utilizzi. Ulteriori accertamenti effettuati nell'immediato sull'arrestato hanno consentito di appurare come questi fosse componente del nucleo familiare di un soggetto percettore del reddito di cittadinanza. Accertamenti, pertanto, verranno condotti anche in tal senso. Controlli per un Natale sicuro, un'anticipazione dei servizi predisposti dalla Questura di Agrigento. Il Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha voluto incontrare la stampa questa mattina per tracciare il bilancio dell'attività profusa negli ultimi tre mesi e presentare i nuovi dirigenti in organico alla Questura. Si tratta del dirigente dell'Ufficio Immigrazione, Dario Infurna, e del nuovo dirigente del commissariato di Palma di Montechiaro, Maria Lucia Lombardo. Il Questore, durante l'incontro, ha parlato anche dell'impegno sul fronte immigrazione, facendo riferimento alle operazioni conclusesi questa notte a Porta Empedocle, dove sono arrivate 200 persone, ma anche le salme di migranti morti in tragedie del mare. Poi ancora riferimento ai controlli capillari su tutto il territorio agrigentino, con la sospensione della licenza per alcune attività ritenute essere non regolari e ancora i controlli che hanno già preso vita in riferimento all'operazione Natale Sicuro. Sicuramente le feste attirano la presenza di molti turisti, perché questo è un territorio bellissimo. Come sapete anche il meteo ci aiuta in questi giorni di grandissima temperatura mite e sole e quindi avremo la presenza anche sicuramente di tanti turisti sul territorio. Pertanto, maggiore attenzione da parte nostra, maggiore attenzione cerchiamo di stimolare nella popolazione. Noi saremo presenti e vigileremo, però aiutateci a rendere questo territorio sicuro al 100%. La Sicilia è terza con 1.765 casi di truffe e frodi creditizie. Truffe e frodi creditizie mediante furto di identità. I dati del primo semestre 2022 dell'osservatorio CRIF confermano un numero di frodi superiore a 15.400 casi, con un aumento del 26,9% rispetto all'anno precedente e un danno stimato superiore a 72 milioni di euro. I criminali sfruttano tecniche sempre più sofisticate per accarpire i dati personali dei consumatori, per cui è fondamentale utilizzare in maniera estremamente attenta gli strumenti di pagamento e le informazioni personali. La Sicilia si piazza al terzo posto su base nazionale, con 1.765 casi nel semestre 2022, una media di 5 al giorno. A livello provinciale, il maggior numero di frodi è stato registrato nella provincia di Palermo, con 440 casi, seguita da Catania con 406 e da Messina con 224. Si inverte la tendenza nelle fasce d'età. Ad essere più colpiti sono gli under 30. I casi di frode, con un importo inferiore ai 1.500 euro, sono più che raddoppiati. L'acquisto di elettrodomestici resta la tipologia di frode maggiormente diffusa, seguita dalla categoria auto e moto, elettronica e telefonia. Il pericolo di cadere vittima di una frode è accresciuto anche da comportamenti spesso disinvolti su internet, come la condivisione di informazioni personali sui social. C'è però anche il rischio di essere vittima di phishing, una tecnica molto diffusa per appropriarsi di dati personali che interessano sempre più la quotidianità di giovani e adulti. Oltre ad imparare a riconoscere messaggi ed email fasulle, pertanto, è fondamentale anche che i consumatori utilizzino canali sicuri per effettuare pagamenti. Tamponamenti perché non funzionano i semafori in alcune strade di San Giorgio a Catania. Noi siamo andati sul posto. Per fortuna nessun ferito nel tamponamento avvenuto questa mattina in piazza Peppino Sapienza a Catania, nel quartiere di San Giorgio. Un Fiat Ducato utilizzato per il trasporto scolastico si è scontrato con una macchina. Un incidente che però pone la questione su un problema annoso legato ai semafori presenti nella zona. Infatti questo incrocio già in passato è stato teatro di altri incidenti, poiché il semaforo che dovrebbe regolare il traffico è spento da anni, così come denunciano i residenti della zona, che evidenziano anche come, pure attraversare, sia pericoloso, soprattutto la sera con la scarsa illuminazione. Gli impianti semaforici della zona infatti sono spenti da tempo e alle persone tocca sperare che non succeda mai nulla di grave. Ma speriamo si risolva qualcosa, perché qua siamo nelle mani di nessuno. Circa 5-6 anni che non funziona. Sì, sì, tutti i giorni ci sono pericoli qua, tutti i giorni, tutti i santi giorni, nessuno fa niente. Ci restano a fare dei dossi, così rallentano, oppure sistemano i semafori. Non tende a migliorare la situazione incresciosa che si è verificata in via Acquedotto greco a Catania, che rimane invasa dai rifiuti. Peggiora sempre di più la situazione rifiuti in via Acquedotto greco a Catania. Più volte abbiamo segnalato lo scempio che è sotto gli occhi di tutti, con cumuli di spazzatura che invadono la strada, e la cui puzza arriva fin dentro le case delle persone, nelle aule della scuola lì vicino. È proprio una dipendente dell'istituto a evidenziare come la situazione si è diventata insostenibile, e che più volte sono stati mandati solleciti alle autorità, ma nulla è stato fatto. Arriva peggio quando i rifiuti vengono bruciati, perché tutto arriva dentro le stanze della scuola. Non abbiamo fatto anche dei solleciti per via PEC, via email, via anche personale con le autorità, però ancora siamo qua. E se qualche mese fa la spazzatura era solo da un lato della strada, adesso è invaso praticamente tutto lo spazio. Alcuni sacchetti vengono adagiati anche sul tratto di strada sovrastante, senza tralasciare i topi che girano indisturbati. Servono interventi urgenti per riportare alla dignità questa parte della città. È un schifo proprio, che stiamo fidando a vivere. Però ho messo a dire a spazzatore vuole. Ma a casa mi ha messo la munizia. Non è mai cambiato nulla, è sempre così. Passerà molto tempo secondo me. Non lo sappiamo più che cosa dobbiamo fare più. Io abito lì di fronte. Abbiamo i topi quasi a casa. C'è una pocheria. Che è uno schifo sinceramente. Sembra uguale, anzi peggio. Ragusa è prima tra i capoluoghi della regione siciliana per la raccolta differenziata con il 71,5% ed è seconda tra le città dell'isola con il maggior numero di abitanti dietro solo a Marsala. Certificarlo nel dossier Comune di Sciclone Sicilia 2022 che riporta i dati 2021 della gestione dei rifiuti dei comuni siciliani. L'educazione, il senso civico e il decoro rispetto delle regole che caratterizzano la stragrande maggioranza dei ragusani ha fermato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì e vengono ancora una volta riconosciuti e messi nero su bianco. Ci fermiamo per una breve pausa. Siamo da voi tra poco. Ancora ben trovati in studio per la seconda parte di MTG. Gli italiani amano gli agriturismi. Boom di prenotazioni per Natale. Natale negli agriturismi e boom di prenotazioni. in Sicilia a rilevarlo è Terra Nostra. L'associazione di Coldiretti che sottolinea come finalmente dopo due anni di crisi nelle oltre 750 strutture dell'isola il Natale si festeggia in campagna con i piatti della tradizione. Spazi ampi e tanto altro. In particolare si rileva il pienone di siciliani che vogliono trascorrere le vacanze in un ambiente sano e in mezzo alla natura, soprattutto per i bambini. Con 152 strutture, Siracusa è la patria degli agriturismi. Il secondo posto è Palermo con 134 a cui seguono poi Ragusa e Messina rispettivamente con 105 e 102 strutture. A Catania ci sono 80 agriturismi. A Trapani 71, a Enna 47, ad Agrigento 43 e a Caltanissetta 34. La festa in mezzo alla natura, sottolinea il presidente regionale Terra Nostra Roberto Caruana, si caratterizza per l'attività culturale e la buona cucina. La pandemia ci ha insegnato a non rinunciare alla possibilità di stare all'area aperta e negli agriturismi si possono fare escursioni a piedi, a cavallo e in bicicletta, esplorare luoghi e conoscere le tradizioni popolari. Il vantaggio delle strutture siciliane è che molte si trovano vicino a città d'arte e borghi ed è possibile fare tour enogastronomici e gite al mare. Ecco perché per le feste natalizie l'agriturismo è certamente un'ottima scelta per trascorrere uno o più giorni all'aria aperta. I ragazzi dell'Anfas di Modica, protagonisti dello spettacolo In Love. Grande successo di pubblico con In Love, lo spettacolo dell'Anfas di Modica, andato in scena venerdì scorso al Teatro Sant'Anna. Una rappresentazione che ha coinvolto 14 ragazzi con disabilità e volontari del servizio civile. Quattro lunghi mesi di preparazione che hanno portato i componenti dell'associazione ad esibirsi nell'entusiasmo e nell'emozione. L'amore nelle tante forme e nelle diverse sfaccettature. Uno spettacolo in tre atti. Nel primo si assiste all'amore impossibile tra il rampollo di una buona famiglia e una cameriera. Amore osteggiato dai genitori di lui ma che alla fine trionfa. Nel secondo atto si descrive la passione per la musica da parte di un giovane che coltiva il sogno di diventare un DJ. Il padre non approva, lo vorrebbe medico ma alla fine sosterrà le sue scelte. Nel terzo atto i ragazzi dell'Anfas hanno descritto cos'è l'amore per loro. Hanno trasmesso dei video che descrivono l'attività in associazione aiutandosi gli uni con gli altri. Tanti privati che si sono prodigati per sostenere ragazze e l'associazione con gli allestimenti e le scenografie. Grande emozione tra il pubblico presente che ha applaudito l'impegno, la costanza e la gioia di un'esibizione che ha toccato il cuore. Sono state inaugurate oggi in via Trinagri a Palermo una panchina rossa e una buca della lettere la prima in memoria delle vittime di femminicidio la seconda a disposizione di tutti coloro i quali vogliono scrivere in forma anonima una nota di denuncia. L'assessore regionale della famiglia delle politiche sociali del lavoro, Nuccio Albano ha già pianificato di istituire in via sperimentale un centro multidisciplinare di ascolto composto da sociologi, psicologi e avvocati che avrà sede nei locali dell'assessorato per vittime di violenza e uomini maltrattanti. È tutto con questa notizia grazie per averci seguiti fin qui a tutti voi ancora buona serata.